La Oasi Verde SRL con sede a Cava dei Tirreni svolge la sua attività nel settore della vendita dei mangimi, prodotti e macchine per l'agricoltura, PET, arredo giardino, irrigazione, fai da te, pellette e stufe e da quest'anno come novità anche legumi, cereali e servizio chiavi. Un problema da anni risolto a Cava dei Tirreni è quello dei nauseabondi odori con cui, loro malgrado, sono costretti a convivere gli abitanti della zona nord della città, attraversata dal torrente Cavaiola. Il fenomeno, in particolar modo nei mesi estivi, compromette il cui etovivere dei residenti, costretti a vivere i barricati in casa per far fronte agli insopportabili olezi anche in torri dei notti. Particolarmente intensi, i cattivi odori sono in via Gaudio Maiori, dove scorrono le acque del torrente Petrano, affluente in sinistra idraulica della Cavaiola. Così, qualche mese fa, nell'intento di imboccare la strada che consenta di giungere ad una definitiva soluzione, e per sollecitare dunque le autorità competenti, l'associazione Cava 5 Stelle Libro Bianco ha lanciato una raccolta di firme, che è stata già sottoscritta da centinaia di cittadini cavesi, e sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, e nei prossimi fine settimana, per raccogliere ulteriori firme, sarà presente nuovamente con un banchetto in piazza. La petizione si prefigge anche lo scopo di indurre chi di dovere ad avviare immediati accertamenti per stabilire con certezza quale sia l'origine dei miasmi, insomma, se dipendano da processi di trasformazione eseguiti dalle industrie presenti in zona, o siano di altra natura. Informazione questa, fondamentale per comprendere se le sostanze inalate dagli abitanti locali siano nocive per la salute. La raccolta firme, in tal senso, fa appello al primo cittadino Vincenzo Servalli, che in qualità di autorità sanitaria locale, viene chiamato ad avviare, con il coinvolgimento dell'Asle dell'ARPAC e di tutte le autorità preposte, adeguate iniziative affinché il problema venga quanto prima definitivamente risolto, tutelando l'ambiente e la salute dei cittadini che vivono e transitano nella zona.